Il sindaco Francesco Maragno accoglie con soddisfazione l'augurio rivolto dal vicepremiere e ministro dell'interno Matteo Salvini allo SPAR di Montesilvano e la notizia che proprio il sistema di protezione per i chiedenti, asilo e rifugiati montesilvanese è al centro della tesi di una studentessa di San Giovanni Teatino, Alice Troiano, che sta per concludere il master in politica internazionali pubbliche e sociali alla London School of Economics. Lo SPAR di Montesilvano è ormai a tutti gli effetti un esempio virtuoso, è stato portato anche all'attenzione da parte della stampa del vicepremiere e ministro Salvini. Lei lo ha incontrato ieri pomeriggio, cosa vi siete detti? Con Salvini abbiamo parlato per davvero pochissime battute perché era travolto dalla gente in un bagno di folla che c'è stato qui a Montesilvano. Gli ho chiesto di lavorare affinché si possa portare finalmente a un commissariato di polizia qui a Montesilvano perché ne ha davvero bisogno, anche perché è una città che è cresciuta a dismisura e ha bisogno di dare comunque risposte sulla sicurezza ai propri cittadini. Il primo cittadino però si aspetta maggiore attenzione dal governo gialloverde che invece continua a discutere sull'accoglienza dei migranti e sulla chiusura dei porti anche se invita i sindaci, piuttosto che fare polemica a confrontarsi sul pacchetto sicurezza nell'incontro e programma il prossimo 10 gennaio in occasione del direttivo del Lanci. Assolutamente non condivido la posizione di alcuni sindaci che si rifiutano di applicarlo. Contiene davvero tantissime misure utili, indispensabili per garantire più sicurezza ai cittadini, a cominciare dall'implementazione delle forze dell'ordine, a continuare con l'allargamento del daspo urbano che il Comune di Montesilvano ha applicato come primo comune in Abruzzo e i benefici si sono visti, agli sgomberi, tutta una serie di pacchetti di cui francamente c'era bisogno. Abbiamo qualche paura e qualche perplessità rispetto all'implementazione dei centri di accoglienza straordinarie per quanto riguarda la disciplina dell'immigrazione. Lo dico perché noi abbiamo avuto la sciagura, la sventura di vivere in un territorio dove erano aperti due centri di accoglienza straordinarie, abbiamo faticato tantissimo per chiuderli e solamente l'idea che possano aprire nuovamente a Montesilvano ci terrorizza.